Davide Agazzi, dal Savona al Lanciano, dalla Lega Pro alla Serie B, un salto in avanti importante per te? Sì, sì, è importante. Io ho appena uscito la primavera e ho iniziato dalla Lega Pro seconda divisione. Pian piano ho fatto il passaggio l'anno dopo subito in prima divisione, quest'anno in Serie B. Nuova esperienza, vediamo come va. Lo scorso anno a Savona che stagione è stata per te in Terra Ligure? Molto bene, ho giocato tutte le partite, abbiamo fatto i play-off e abbiamo rischiato rischiato. Siamo quasi andati in Serie B, quindi molto bene. Quest'anno a Lanciano ti riproponi in una categoria superiore con una squadra che lo scorso anno ha sfiorato i play-off e che nella prossima stagione ritenterà il piazzamento tra le prime otto? L'anno scorso ho fatto molto bene. Il primo obiettivo resta comunque la salvezza, salvarsi, poi quello che viene di più è sempre meglio. Lanciano, nuova piazza, nuova dimensione calcistica, che ambiente hai trovato? Poi due parole sul tecnico d'Aversa. L'ambiente è molto buono, pian piano mi sto integrando, i compagni bene mi hanno accolto subito. Per il mister ho parlato un po' con lui, mi dà consigli. Per ora sembra molto bravo. Davide Agazzi, di proprietà dell'Atalanta, il tuo sogno è quello un domani, un giorno, di vestire la casacca nerazzurra? Sì, sarebbe quasi il massimo. Sarebbe un sogno arrivarli con la squadra della tua città, che ti favi da bambino, è sempre una cosa molto bella.